Ciao a tutti ragazzi! Io e Piccettino vi portiamo nel recupero delle produzioni bonelliane dicembrine con il numero 6 delle Fear Novels di Morgan Lost. Eccolo qua, Excalibur, 15 dicembre 2022, quindi è uscito già da un po', ma non ne parliamo oggi. Beh ragazzi, intanto è il volume dell'errore, poi ne parliamo meglio. 4,40 euro, 66 pagine, formato morgallostiano, ma partiamo subito a spronbattuto, con la sprona proprio. Cominciamo da Fabrizio De Tommaso, direi proprio di sì, con una copertina inquietante, inquietantemente bella. Per me è inquietante anche per un altro motivo, cioè la ragazza ritratta in copertina, esclusa la pettinatura e la biondezza, assomiglia tantissimo a una mia carissima amica. Cioè giuro, non lo sto scherzando, cioè questa ragazza assomiglia tantissimo a una mia carissima amica, e quindi quando l'ho vista sono rimasto quasi più scioccato che ad aprire l'intero albo. E mi ha fatto impressione questa cosa, ecco. Vi faccio notare, a parte la bellezza di questa copertina con questo sfondo, che si fa capire che c'è qualcosa ma senza capire esattamente cosa, anche perché se fosse stato più chiaro nel disegnare lo sfondo avrebbe spoilerato, avrebbe dato un'indicazione troppo grossa, mentre in realtà così vi fa capire che dietro c'è appeso qualcosa ma non capiamo bene cosa. E poi metti il dettaglio più bello e più sensato di questa storia, cioè la pistola di Morgan. Guardatela bene, guardate in che posizione è, guardate la fondina, guardate bene questa parte. Perché in un piccolo dettaglio si racchiude un'intera storia. Davvero bella, bella, bella. Una copertina magnifica. Ve la faccio vedere bene qua di fianco e tanti saluti. Nel frattempo, vista la similitudine, colgo l'occasione. Ciao Francesca. Ragazzi, è uguale, è uguale alla mia amica, giuro. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti e troviamo l'editoriale. L'editoriale è particolare, che si divide in due parti. Una commerciale e una, ovviamente, di spiegazione scuse. Scuse, tra virgolette, ok? Intanto abbiamo l'uscita del libro di Claudio Chiaverotti, La vendetta di Anubi, che è uscito per la Cut Up Edizione, costa 17 euro, se non sbaglio. Io non l'ho ancora preso, non l'ho trovato in nessuna libreria. Probabilmente per metà gennaio cerco di ordinarmelo, perché sono molto curioso. E ragazzi, interessante, perché vogliamo vedere un po' anche Claudio fuori dal fumetto, cioè vedere qualcosa di scritto suo. Sarebbe bello vedere ogni tanto qualche bonus, qualche stralcio di sceneggiatura di Morgan. A me non dispiacerebbe. Però, intanto, ci accontentiamo di un bel libro scritto, di un bel racconto scritto, che sono sicuro, ancora prima di averlo letto, avrà già la mia fiducia. Anche perché si parla comunque del Mugia d'Esizio di Torino, si parla di luoghi che comunque Chiaverotti conosce, quindi andiamo e alziamo le vendite. Vogliamo il best seller. E lo faremo, faremo diventare un best seller. E poi abbiamo l'errata, corrige, corrige, io non so come si pronunci, quindi me lo dovete dire voi, del numero precedente, ovvero che in quarta di copertina è stata pubblicata la copertina del numero 7, non quella del numero 6. Quindi qua ce lo dicono e amen. Incidenti di percorso, perdonabili, non facciamo saltare falange a nessuno. E tra l'altro, ha portato questa copertina ad essere per la prima volta la più misteriosa di Morgan Lost, se ci pensate, perché non l'abbiamo vista, fino a che o non siamo andati su internet a cercarla, o non siamo andati in edicola a comprarlo. E tra l'altro, chi è andato in edicola a comprarlo senza guardare su internet si è trovato una sorpresa, perché ci aspettava un'altra cosa. Cioè è stato un giochetto molto artistico. Quindi magari stiamo più attenti, ma non tagliamo falange a nessuno. Sono erroretti veniali. Entriamo nel vivo. Nel vivo adesso parliamo dei disegni di Francesco Francini. E cacchia rola, raga. Incredibile. Innanzitutto ha sugli scudi per i grain in versione barista, che da sola vale il prezzo del biglietto. Apro, chiudo carentesi. Sì, ha un debole per i grain. E poi tanta roba. Ilke e Valérie. Valérie. Non so, Valérie. Valérie sarà la francese. Valérie. Ecco, le due protagoniste femminili sono incredibili. Ma in generale è tutto bellissimo. Cioè Morgan gioca tantissimo sull'emozionalità, sui sentimenti e sull'espressività. E qua, ragazzi, ce n'è tantissimo. Soprattutto le due protagoniste sono incredibili in certe deformazioni, in certi momenti, in certe uscite. Cioè davvero c'è tanto da vedere. Cioè Francini fa un lavoro incredibile di emozionalità. Scende un pochino nello splatter quando serve. Ma giusto quel goccino di sangue perché ovviamente ci sono certe scene che devono essere raccontate in quel modo. C'è un filo erotico in alcuni punti, pur senza essere volgare, ma molto ben centrato. Adesso penserò se mettervi o meno le tavole. E tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. Io posso dire che i disegni sono fantastici. C'è davvero tanto di cui guardare, di cui divertirsi, di cui immaginarsi e di cui anche innamorarsi per certi versi. Ragazzi, che vi posso dire? Posso dire che è bello. Cioè io non so che altro dire. Bello. Lo aprite, ci trovate esattamente quello che Morgan Lost vi deve dare, vi vuole dare. Emozionalità, bei disegni, una storia che vi scorre sotto gli occhi, una sana dose di follia ai ragazzi Samurai vs Ferrys e qualcosa che va al di là di ogni redenzione. Io sti film li voglio vedere. Claudio gira lì tutti, dal primo all'ultimo, e facciamo una serata cineteca a guardarli tutti. Li mettiamo online perché sono incredibili. Vorrei vedere le trame di questi film. Comunque davvero tanta, tanta, tanta meraviglia. Posso soltanto dire quello. Complimenti. A livello grafico, impatto magnifico di Morgan. Fantastico. Ma ovviamente abbiamo la storia. Excalibur è scritta col cuore, il fegato e tutti gli organi possibili, immaginabili, del nostro Claudio Chiaverotti. Tanta roba. Tanta, tanta roba. Si stacca un po' dalla Mega Continui, potrebbe leggerla chiunque, questa storia. Diciamo, la parte del leone la fa la Mateba di Mateba si pronuncia giusto, di Morgan, la sua pistola. Perché? Perché Morgan, oh ragazzi, prima o poi doveva capitare che sta pistola accadeva, no? E durante una situazione molto concitata, durante una lotta a un serial killer, la pistola di Morgan viene smarrita. Finisce nelle mani di qualcuno, di Ilsa. Ilsa è una ragazza bruttina, sì, possiamo definire bruttina, pur nel suo fascino, perché poi la vedremo bene in alcune altre fasi, vedremo che è anche un suo fascino, per quanto non sia la bellona che ti colpisce di primo sguardo, comunque è un suo fascino, che ruba la pistola a Morgan perché è una sua fan. Essere fan in alcuni frangenti può giusto, giusto essere sintomo di un lievissimo disturbo maniacale e ossessivo e da qui si svilupperà la storia. Storia che coinvolgerà anche Valerie, che è la nostra testimonia oculare di questo furto, di questa pistola, o forse no. Beh, lo scoprirete leggendo la storia. La storia nasconde velatissimo, senza bisogno di esplicarlo o di dirlo con lunghi flashback o cose varie, ma solo con vignette ed emozioni, anche una tristissima storia personale della protagonista, di cui non metterò il nome. Perché ragazzi, sarei un po' molto inquietante capire perché c'è questo rapporto verso Morgan, come nasce anche questo... No, non posso farvi spoiler, però c'è una situazione mentale particolare. Insomma, davvero, è una storia che si può leggere tranquillamente da chiunque, perché se non l'avete mai letto Morgan. È interessante, è divertente, è forte nel suo non detto ma fatto capire e soprattutto ha un finale che ragazzi è inquietantissimo perché c'è il controfinale che è verottiano che vi lancia quel... che vi lancia quel quid in più, che vi lancia quel retrogusto ancora più estremo, anche se estremo nella maniera positiva, cioè positiva, nella maniera non volgare del termine, ecco, non abusata del termine. Posso dire che è una bella storia che mi ha divertito, che abbiamo rivisto Morgan muoversi, far girare le rotelline, entrare in un mondo tra virgolette più normale per lui dove non è coinvolto totalmente in una persona, certo, la pistola è sua, c'è affezionato e tutto, però non ci sono risvolti personali o il wallender di turno o l'arcinemico di turno, cioè è una sua caccia per un motivo personale che è la pistola, però è una sua caccia senza quel tipo di risvolti. Lo vediamo indagare ed è molto interessante, davvero molto molto interessante, posso dirvi wow, davvero wow, complimentoni. Grande Morgan, bella storia, si conclude il 2022 in un ottimo modo e poi attendiamo il 2023 con dalla Sinossi una rivoluzione estrema a casa Morgan, vista così almeno, no? Perciò vediamo, vediamo dove si va a parare e vediamo il nostro Morgan all'opera con un'indagine, una caccia all'oggetto fondamentalmente che si tramuterà poi in una caccia o serial killer da parte del nostro cacciatore di serial killer preferito. Quindi ragazzi, Morgan Lost in edicola mi raccomando andate tutti a caccia, ok? Ciao ragazzi, alla prossima e non so se ne farò altri da qui a fine anno quindi inizio poi magari lo farò a un altro giro, non lo so ancora comunque buon 2023 in arrivo, nel caso ve lo dirò in altri video se ne farò altri prima della fine dell'anno, non lo posso sapere. Baci e abbracci e ci sentiamo prestissimo. Intanto non state soli al buio perché Morgan vi aspetta. Ciao! a Grazie a tutti.